Con quest'ultimo brano, il percorale, è un titolo inquietante, ma invece sono persone tranquillissime. Poi vi saluteremo, anzi vi salutiamo. Poi vi salutiamo, anzi vi salutiamo. Poi vi salutiamo. Poi vi salutiamo, anzi vi salutiamo. Già che sei arrivato, ci fai una foto. Già che ci è arrivato nella tua presenza, ci fai una foto. Uno dei più grandi foto-reporter di Puglia, Bruccia e Basilicata. Poi vi salutiamo, avvocato, avvocato, avvocato. Potrei fare anche questo momento. Puglia. 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 Puglia.